Alcuni disturbi cutanei possono derivare del trattamento del diabete? Sì, è possibile, anche se devo dire abbastanza raro. Non esiste in letteratura una percentuale di quanto gli antidiabetici orali possano determinare reazioni, diciamo, adverse drug reaction, cioè reazioni avverse al farmaco, intendendo per avverse sia reazioni, diciamo, puramente allergiche ma anche non allergiche. In realtà però, per esempio, sono descritte delle orticaria, delle forme di orticaria da metformina o comunque da trattamenti antidiabetici orali, così come sono descritti pruriti e pruriti dermografici, cioè che sono dei pruriti che simulano l'orticaria, ma l'orticaria in questo caso non è un'orticaria spontanea, ma è soltanto provocata dal grattamento. Quindi è possibile, ma è un'evenienza molto rara. Ma esiste anche una lipoatrofia acquisita, è una forma rara, peraltro devo dire, che inizia nell'infanzia, a volte dopo infezioni batteriche, ma poi può essere legata anche al diabete insulino resistente. In ogni caso, molti meccanismi che portano a una rifrazione delle fibre elastiche nel diabete, dovuti a meccanismi di glicosilazione legati all'insulino resistenza, possono verificarsi e quindi queste persone possono avere delle zone di lipoatrofia anche dove viene somministrata la insulina. Quindi si chiama proprio l'ipotrofia da insulina.